Buon pomeriggio, benvenuti al quarto modulo del laboratorio dal basso, il teatro fuori dal teatro. Io mi presento per l'ennesima volta, dirò delle cose che magari voi avete già ascoltato, però lo faccio anche per lo streaming. Io mi chiamo Fabio Musci, sono il responsabile di Improvvisart, noi abbiamo voluto realizzare questi laboratori dal basso proprio per cercare di far emergere una serie di esigenze che noi abbiamo intercettato sul territorio, ma soprattutto per acquisire delle competenze date dagli esperti che quest'oggi, così come domani e così come è già avvenuto nei moduli precedenti, ci possono fornire. Quindi darci degli strumenti per fare impresa con il teatro, per mettere a frutto le nostre capacità, le nostre idee, le nostre professionalità. Il modulo di oggi pomeriggio è un modulo molto particolare al quale noi teniamo davvero parecchio, che è quello all'edutainment, vale a dire come attraverso il teatro si possano valorizzare i beni culturali, per esempio, come possono essere i castelli, come possono essere i borghi delle città, come possono essere anche delle storie però, quindi non necessariamente bene culturale inteso solo come bene materiale, ma anche i beni immateriali, quindi come si possono portare in superficie, per esempio, delle storie. Quello che noi oggi andremo ad esplorare saranno due casi di studio particolari. Il primo è quello che ci darà Andrea Scipiglia, che viene da Venezia, ma ha un'attività molto importante, che è questo festival che si chiama Autunno Nero, di cui poi ci parlerà direttamente lui, a Trioria, che è un paese tra la Liguria e il Piemonte, nel quale organizza sia un festival sia questi ghost tour, che sono una sorta di percorso che ha a che vedere con la valorizzazione del territorio, la valorizzazione di una serie di storie, ovviamente con un chiaro taglio, quando parliamo di ghost tour parliamo di mistero, di folklore, anche di horror, poi vedremo, però insieme al teatro, perché ci sono poi delle espressioni come lo storytelling o come delle performance reali fatte nelle strade che ci mostrerà. Renato Preziuso invece viene da Chianciano Term, il vicepresidente di Impro Teatro, che è l'Associazione Nazionale di Improvvisazione Teatrale, e ci parlerà dei format invece che loro hanno creato, tra Chianciano Term e poi un po' tutto il territorio, all'interno dei musei, quindi all'interno di musei, di biblioteche, ma anche di una miniera, di un'acciaieria, sono l'area archeologica, quindi un argomento che anche ieri, se vi ricordate, con il teatro sociale abbiamo toccato. Poi abbiamo la graditissima presenza dell'architetto Elia, che è il direttore del MUST, il Museo Storico di Lecce, che sarà qui per raccontarci un po' di esperienze, ma anche un po' di progettualità, ma diceva anche per ascoltare delle proposte, quindi questa è una cosa che a noi fa molto piacere. Si è fermata con noi anche Enrica, che al momento opportuno interverrà anche per dirci magari eventuali idee, come fare a trasformare eventuali idee in dei progetti concreti da presentare, perché no, alla comunità europea. Io faccio un intervento proprio di un minuto e vi presento un'esperienza che noi abbiamo in corso da un anno presso il Museo Storico dei Treni, che si trova a Lecce. Abbiamo realizzato un piccolo report che poi metto a disposizione di chi eventualmente è curioso di vedere. Noi realizziamo all'interno di questo museo una visita, che però non è una visita normale, è una visita che viene effettuata da attori, dagli attori di improvvisarti in questo caso, che con abiti d'epoca interpretano dei personaggi storici che conducono il visitatore all'interno del museo. È una visita che dura un'oretta, che abbiamo chiamato Un viaggio nel tempo, perché parte dagli anni 70 e attraverso una serie di incontri che si fanno nel percorso che abbiamo disegnato, conduce fino al 1900, all'inizio del 1900. Questa è un'esperienza che noi riteniamo molto significativa, perché a distanza di un anno da quando abbiamo iniziato a farla, è possibile tracciare un bilancio della stessa. E quindi noi ci siamo resi conto, anche con nostra sorpresa, di aver portato più di mille visitatori in questo museo in un anno, facendo delle attività non periodiche, quindi non ci sono le visite per dire ogni sabato, una volta al mese, ma in maniera sporadica, quindi una volta ogni mese e mezzo, una volta ogni due mesi, proprio per dare respiro, per sperimentare, e senza il sostegno di nessun ente al di fuori del comune e dell'associazione che gestisce il museo, che ci garantiscono l'accesso allo stesso. Questo lavoro noi l'abbiamo svolto con una preparazione importante di studio, ovviamente sul museo stesso, sui personaggi che potevano venire fuori. Li abbiamo creati noi sulle indicazioni che ci sono state date, sulle suggestioni che ci sono state date dall'associazione, e abbiamo creato sostanzialmente questo format, che è un format che piace molto, un format trasversale, perché può essere fruibile sia dalle famiglie, quindi sia dai genitori, ma anche dai bambini, tant'è che da quest'anno, ma già l'anno scorso in maniera spontanea era avvenuto, l'abbiamo proposto alle scuole, e quindi abbiamo già decine di prenotazioni da parte di scuole che porteranno le classi a visitare il museo con questa modalità. Qui poi ci sono dei numeri, una serie di motivazioni, qualcosa, se lo ritenete opportuno, potete vedere. Io passo la parola direttamente, vuole fare un intervento iniziale, diciamo, e poi... Sì, posso farlo volentieri perché sto carburando nel frattempo, sono venuto estremamente così disarmato e privo di argomenti da proporre, soprattutto da recepire. Però, perché, voglio dire, diventi anche più efficace la proposta, è meglio che io spieghi di che cosa mi occupo e lo stadio in cui si trova... Mi seguo? Se no non... Mi sento troppo come quota. Allora, intanto voglio dire una brevissima presentazione del MUST, se mai ce ne fosse bisogno, l'acronimo di Museo Storico della Città di Lecce. In realtà è giovanissimo, è ancora in una fase sperimentale, e proprio per questo, proprio perché funzioni anche in una fase sperimentale, senza allestimenti definiti, si è proposto una sfida, quella di raccontare la storia della città attraverso la sua cittadinanza e attraverso la contemporaneità. Quindi, a mano a mano, attraverso piccoli passi di sperimentazione gestionale, di modelli gestionali a costo zero per l'amministrazione, a bassissimo costo per l'amministrazione, lo so che questo non è una cosa bella che sto dicendo, perché a costo zero per l'amministrazione significa anche con grandi sacrifici da chi deve offrire dei servizi. In realtà, voglio dire, si sta ponendo all'attenzione della cittadinanza un'offerta culturale legata soprattutto all'arte contemporanea, moderna e contemporanea, basandosi su collezioni già di proprietà comunale oppure di prestiti comunali e soprattutto comunque attraverso mostre e rassegne che vengono progettate per mostre, parlo sempre di arti visuali, visive. Parallelamente però, e la sperimentazione sta consistendo in questo, stiamo implementando sempre di più quelle attività collaterali che in brutto termine in realtà sono delle attività vere e proprie che sono i laboratori didattici per i bambini in età prescolare e scolare che stanno diventando sempre più la nostra caratterizzazione d'eccellenza. Devo dire onestamente che si sta caratterizzando per questo perché le risposte oggettive vengono date dalla presenza dei bambini, non certo dalle nostre dichiarazioni. Questo qui è una cosa che sta funzionando e si sta affinando ed è veramente piacevole e nello stesso tempo istruttivo e moderno e contemporaneo. L'altro aspetto è quello di utilizzare gli spazi che per adesso sono non tutti occupati per attività di animazione prevalentemente sociale e culturale legando i discorsi e i progetti sulle trasformazioni urbane. In questo periodo per esempio è stato molto aperto con i laboratori urbani per le città capitale della cultura legato alle trasformazioni urbane dei vari progetti del piano urbanistico generale oppure comunque a piccoli workshop di fotografia oppure di lettura, di reading letterario o con l'abbinamento anche ad attività legate alla musica unplugged però non forte non con strumenti elettrici ma la musica da camera quando si trattava di musica classica pianoforte, arpa eccetera eccetera oppure la musica jazz oppure la musica folk però di nicchia diciamo ecco con artisti locali. Ecco artisti locali la caratterizzazione qual è di museo storico della città e della sua cittadinanza? Quella di lavorare esclusivamente non con delle rassegne blockbuster che servono per attirare un pubblico pagante eccetera ma attraverso le risorse del territorio sia a livello di gestione che a livello di produzione artistica. Quindi se si è compreso bene così la sintesi con cui ho voluto presentare il progetto che cosa posso dire adesso così per affacciarmi a questa materia, a questo mondo? Che in realtà da un po' di anni a questa parte i musei sono dei luoghi in cui si fa prevalentemente arte visuale ma la stessa arte visuale sta perdendo i suoi connotati e si sta trasformando sempre più in arte performativa e quindi voglio dire i luoghi tradizionali, il museo tradizionale, il teatro tradizionale stanno stretti un pochino a queste nuove formule di offerta culturale e nello stesso tempo il racconto di una città può essere fatto anche attraverso sì sicuramente attraverso le immagini, le documentazioni storiche, le collezioni eccetera però può essere fatto proprio letteralmente attraverso un racconto e il racconto gli anglosassoni lo chiamano storytelling in realtà non è altro che una performance di tipo teatrale in cui ci sono personaggi che interagiscono o con cittadini attivi oppure con cittadini visitatori per dire che cosa, per raccontare in una maniera innovativa se vogliamo, comunque meno noiosa forse per alcuni versi oppure più mirata per altri versi quello che può essere la storia della città una storia della città come la nostra, come Lecce che voi conoscete ha radici antichissime che sicuramente può essere raccontata tradizionalmente dai musei già esistenti quello archeologico, quello provinciale e che però sarebbe bellissimo, ritengo possa essere raccontata anche attraverso forme innovative che siano anche un mix di rappresentazioni tra aspetti tradizionali, aspetti visivi e aspetti performativi quindi quando Fabio mi ha raccontato velocemente questo progetto a parte il fatto che in alcune occasioni noi abbiamo già sperimentato questa formula del racconto della storia della città con la sua compagnia sgarrupata lo dico perché in alcuni anni è stato anche uno scolaro uno che ha frequentato il corso è anche mio figlio per cui l'ho conosciuto in maniera molto confidenziale però quando mi ha raccontato questa cosa ho pensato ma io che cosa centro poi via via ho riflettuto e sto pensando a come in una fase proprio di sperimentazione che non è detto che sia provvisoria la sperimentazione la sperimentazione può essere proprio in realtà una condizione anche a medio e lungo termine perché in arte, nelle arti visuali si può sperimentare nella gestione dei modelli di offerta culturale invece no invece ecco fare di necessità virtù perché nessuno nasce imparato e non abbiamo tutti gli strumenti di default però ecco nello stesso tempo diventa anche più affascinante è sicuramente più inclusivo il modello sperimentale per una città che sta ponendo con Franco diciamo in realtà facciamo un discorso sfondiamo una porta aperta lui lo fa da anni con Coreia per non dire da decenni in questa città noi stiamo ponendo l'attenzione come candidatura di Lecce Città della Cultura non tanto a modelli registrati e tranquilli quanto a aperture verso una formula dove la cultura è legata esclusivamente ad una cosa alla cittadinanza attiva e all'inclusione sociale questo è un modello che Coreia può insegnare con le sue attività tant'è che voglio dire la sua testimonianza nei comitati più o meno formalizzati di candidatura sono diciamo ecco l'attività di Coreia è proprio in tal senso però voglio dire poi tutta la platea anche dell'associazionismo legato al mondo dell'arte e della cultura ha dato forza ad una candidatura debolissima perché costruita in tempo proprio su questo tema il MUST che è il museo storico della città e che quindi potrebbe essere anche un simbolo fisico di un discorso di una strategia culturale del territorio deve essere attento e deve valutare bene quali possono essere le risorse del territorio in ambito teatrale e in progetti che possono abbinare il racconto della città con le performance teatrali voglio dire qui non so se sono entrato nel tema no assolutamente infatti c'è stata una parola che era emersa anche nei Living Labs fatti durante la fiera dell'innovazione vale a dire sempre dal basso abbiamo partecipato anche forse con qualcuno di presenti ad alcuni laboratori in cui emergeva il fatto che la memoria di Lecce in realtà per un turista ma anche per un cittadino non è fruibile cioè non c'è un luogo a Lecce nel quale si può entrare e vedere la storia di Lecce non esiste ancora questo luogo ed evidentemente si sta formando si sta organizzando e sarà il punto di riferimento della città in questo senso però volevo far notare soprattutto la parola memoria che è una parola che è uscita anche ieri ieri quando parlavamo proprio con Patera e Del Gottardo della maniera di trasmettere dei contenuti si è parlato del fattore emotivo quindi quando attraverso il teatro si riescono a coinvolgere per esempio i ragazzi piuttosto che i bambini piuttosto che anche gli adulti toccando il lato delle emozioni beh quei contenuti rimangono e questa è esattamente la modalità che adesso poi ci racconteranno anche loro e la modalità sulla quale secondo noi è il caso di investire cioè qual è il connubio che noi vediamo tra musei e teatro esattamente questo cioè coinvolgere lo spettatore in maniera attiva in maniera anche interattiva per lasciare poi dei contenuti quindi un substrato anche pedagogico delle attività però non latente non lasciato al caso ma poi portato in luce attraverso studio attraverso metodo attraverso tecniche che sono delle tecniche concrete io vorrei passare la parola direttamente agli altri due ospiti stranieri che sono venuti in terra pugliese per farci vedere poi una serie di cose raccontarci proprio brevemente e poi farci vedere anche magari qualcosa allora buonasera io sono Renato Preziuso come diceva Fabio sono vicepresidente nazionale di Improteatro che è un'associazione che coordina il lavoro di varie associazioni locali che si occupano di improvvisazione teatrale io non so quanti di voi hanno mai visto spettacoli di improvvisazione teatrale mai nessuno ma ne avete un fulgito esempio proprio qui a Lecce con Improvvisarte e ve li consigliamo assolutamente sono anche delle meravigliose attrici quindi è un attore tranquillamente vederli noi ci occupiamo di fare spettacoli siamo tante compagnie comunque riunite sotto un unico cappello e una delle cose che facciamo con più passione il nostro lavoro è molto articolato nel senso facciamo molte cose è quella della formazione teatrale in ambito particolarmente specifico dell'improvvisazione con Ezio e Toto stiamo con l'università di Lecce siamo in diretto contatto perché l'associazione nazionale adesso ha un grande progetto con loro che è quello della certificazione degli insegnanti di improvvisazione voi capite che in ambito formativo la certificazione non ci si riesce nella scuola italiana a certificare gli insegnanti chi ha quelle competenze per insegnare o quanto durano o come vanno manutenute ci stiamo provando noi in ambito teatrale quindi se già in ambito scientifico è difficile pensate in ambito teatrale ma ci riusciremo stiamo lavorando sodo su questo tornando all'argomento della serata perché mi sto dilungando una delle cose che facciamo e lo fa la mia compagnia di Chianciano Terme e Perugia e quindi in questo caso siamo anche un po' competitor perché anche Perugia è una candidata come capitale della cultura europea 2019 è quella dell'edutainment non so se qualcuno di voi sa cos'è l'edutainment è molto facilmente spiegabile è l'unione di due parole di due concetti inglesi educational e entertainment e quindi è educazione e intrattenimento e spettacolo quindi si lavora su un concetto che è quello di di una formazione attiva quindi imparo veramente tra virgolette giocando o assistendo o partecipando in questo caso nel nostro caso a uno spettacolo teatrale e all'apprendimento di gruppo perché lo si fa per un gruppo che non è quindi maestro e docente ma è un gruppo che partecipa attivamente allo spettacolo e appunto come dicevo si impara facendo questo è in sintesi quello che facciamo lascio presentare anche Andrea poi magari ritorniamo sono già ah tu sei già al microfonato meraviglioso io sono Andrea Sibilia e sono un nipponista o yamatologo cioè mi occupo sono nel campo di studi del Giappone quindi tutto quello che è giapponese in particolare cinema e teatro giapponesi e i loro legami con il folklore quindi la tradizione popolare questo sembra non centrare niente in realtà sono appassionato di folklore e nel 2006 per varie circostanze ho cominciato un percorso nell'organizzazione di eventi e nel 2007 ho fondato un'associazione che è l'associazione culturale autunno nero il cui obiettivo è quello di riscoprire il patrimonio folclorico che è alla base dell'horror della cultura horror contemporanea ovvero tutto quello che è la declinazione quindi non soltanto cinema ma ogni ambito culturale in particolare organizza un festival che si chiama autunno nero esattamente come l'associazione l'obiettivo è lo stesso però si tratta di dare vari componenti tra cui quella dello spettacolo è una delle principali spettacolo teatro musica ma anche installazioni esposizioni la particolarità non è il genere ma è il tema cioè noi prendiamo tutto quello che ha delle suggestioni che noi consideriamo tendenti all'horror al dark non al noir inteso come thriller ma piuttosto qualcosa che viene almeno io trovo percepibile venendo dai nostri luoghi io sono di Ventimiglia provincia di Imperia lavoro nei borghi medievali dell'entroterra della provincia di Imperia non so se qualcuno di voi è mai stato dalle nostre parti si respira subito un'atmosfera un po' particolare un po' tra lo scuro il decadente il dark insomma qualcosa che è molto congeniale e dove il festival si è radicato perfettamente tant'è che è un caso in cui l'evento e il territorio sono un connubio inscindibile sostanzialmente tant'è che dopo il successo dell'evento molti mi hanno chiesto perché non lo esporti sì è possibile esportare un evento perché comunque i contenuti si esportano ma come sradicarlo dal territorio in cui è nato cioè da noi quando si pensa autunno nero non si pensa soltanto agli eventi e ai contenuti si ha in mente un'immagine che sono una tipologia di luoghi facendo questo e lavorando in alcuni borghi dell'entroterra in questi due anni di pausa in cui il festival è in pausa ho pensato di creare questo progetto sperimentale che di fatto non è nulla di nuovo nel senso che nei paesi anglosassoni negli Stati Uniti è un fenomeno lo chiamerei così molto noto soprattutto negli ultimi dieci anni da noi meno e autunno nero ghost tour triora forse triora non si legge molto bene perché è piccolo però ha un significato perché l'idea era quella di creare un servizio cioè dare a un territorio una presentazione che non fosse la classica guida turistica ma che fosse tematico cioè dava comunque la possibilità ai turisti di venire a conoscenza di quello che è il territorio quindi la cultura del territorio ma in modo diverso in modo alternativo in modo non convenzionale cosa c'entra il logo è il discorso che è un progetto esportabile nel senso si viene fatto a triora ha delle caratteristiche precise però io lo potrei fare in un altro borgo della Liguria o anche fuori dalla Liguria infatti questa striscia qua sta apposta perché io potrei cambiare il nome e potrebbe diventare autunno nero ghost tour Genova per dire autunno nero ghost tour imperia potrebbe cambiare e poi insomma per entrare nel merito entriamo dopo se è nato o vuoi che si si no 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 posso io mi approprio del computer in tante così vi facciamo vedere anche che cosa facciamo io e Andrea ci siamo conosciuti ieri quindi ci alterniamo un po' così seguendo il filo della discussione magari vi chiedo in ogni momento interrompeteci chiedete interagiamo tranquillamente insomma una cosa che mi ha interessato stamattina era della parte di Elisa era appunto che il progetto Europa Creativa finanzierà le commissioni fra generi cioè quindi il teatro per esempio appunto applicato alla gestione o alla cura o alla valorizzazione dei beni culturali oppure alla commissioni fra le arti cosa che volevo dire io è non so da dove partire in verità e per e per dirvi da tutta mi piace molto il il tema di di questo convegno che è appunto il teatro fuori dal teatro e questo per dirvi come abbiamo iniziato noi perché noi non abbiamo iniziato dicendo facciamo edutainment ma io vengo appunto vi dicevo da Chianciano Terme un posto nella Florida Toscana dove ogni paese ha un meraviglioso teatro che se va bene anzi se va male è del Cinquecento all'italiana tutti i teatri meravigliosamente fantastici tranne Chianciano Terme che aveva un piccolo teatrino aveva alle Terme all'acqua delle cose meravigliose però aveva un piccolo teatrino nel centro storico che negli anni Sessanta ha preso fuoco è bruciato e adesso se percorrete il centro storico di Chianciano Terme vedete una fila interminabile di palazzi uno attaccato all'altro e a un certo punto un buco lì c'era il teatro quello è rimasto quindi noi quando siamo diventati compagnia teatrale uno dei problemi che abbiamo dovuto affrontare quindi siamo partiti dalla pratica è dove facciamo le nostre cose perché non avevamo assolutamente un luogo e quindi abbiamo animato tutto quello che ci capitava sotto le mani in questo l'improvvisazione teatrale ci aiuta moltissimo perché chiaramente noi non avendo un testo non avendo costumi non avendo scene quando facciamo i nostri spettacoli possiamo in qualche maniera permetterci anche di rendere di dissacrare anche altri luoghi in particolare i musei perché Chianciano appunto come vi dicevo non ha non ha un teatro ma ha un piccolo ma veramente ben fatto museo etrusco siamo molto vicini a Chiusi la patria di Reporzenna quindi una delle prime cose quando ci siamo formati è stato come compagnia è stato quello di dire beh i gestori del museo ci hanno chiesto perché non fate qualcosa da noi e noi abbiamo detto sì facciamo qualcosa da voi però non volevamo fare uno spettacolo che fosse lontano dal contesto del luogo dove veniva svolto questa era l'idea perché si può fare un concerto di musica posso anche fare una lettura di pirandello all'interno di un museo etrusco che è decontestualizzato in una magnifica cornice ma poi insomma non ha nulla a che fare con il luogo e quindi ci siamo fatti dare il materiale abbiamo studiato abbiamo seguito le guide nei loro nelle loro visite istituzionali diciamo così e avendo anche la fortuna di avere nel nostro gruppo un autore un autore teatrale abbiamo scritto dei testi che si adattano al luogo e da questi testi abbiamo creato dei format cioè sono delle cornici teatrali che possono essere facilmente adattati ad ogni tipo di situazione museale e infatti è stata l'esperienza è stata è stata ripetuta più volte siamo quindi praticamente dopo anni che facevamo queste cose in giro per i musei della nostra zona ci siamo accorti che stavamo facendo edutainment diciamo a un certo punto qualcuno ci disse beh ma voi fate una cosa che è molto particolare che non si trova noi sembrava completamente naturale e da lì abbiamo un pochino sviluppato e allargato il nostro il nostro ambito noi siamo un'associazione culturale assolutamente che siamo sul filo tra l'amatorialità e la e la professionalità nel senso che il movimento è assolutamente amatoriale abbiamo un centinaio di soci che frequentano i nostri corsi tra Chianciano e Perugia però tre di noi fanno questo di mestiere e quindi siamo un po' un po' sul filo stiamo cercando di professionalizzare la struttura negli ultimi due anni siamo in cammino siamo in cammino quindi abbiamo fatto della nostra passione anche alcuni di noi ne hanno fatto un lavoro e inizio a far vedere qualcosa poi vuoi far vedere tu come vuoi non abbiamo non so se ah no magari passiamo faccio prima sul video quindi adesso questo è per dirvi come abbiamo come abbiamo iniziato e magari facciamo vedere adesso le nostre esperienze proprio fisicamente tanto mi ricollego un secondo perché ci sono dei punti in comune nel senso che anche noi raccontiamo il territorio vabbè non si tratta di improvvisazione però giustamente anche lui parlava comunque c'è una ricerca ovviamente su quello che è e da quello non ci si discosta e il contesto poi che no e il contorno dove si deve dare una trama in qualche modo no però comunque le informazioni sono scientificamente sì effettivamente cioè i nostri spettacoli si seguono come quelli di Andrea credo due filoni fondamentali il primo è l'interazione col pubblico e di conseguenza gli attori essendo improvvisatori sono molto facilitati in questo nel senso che nel momento in cui succede qualcosa che non è scritto che non è previsto comunque una domanda del pubblico o una richiesta di informazioni di approfondimento l'improvvisatore senza perdere il suo personaggio riesce a interagire col pubblico d'altra parte c'è la parte scientifica cioè quella della visita guidata che deve essere rigorosissima ovviamente non possiamo dire una cosa per un'altra e anche noi in questo senso siamo sulla stessa linea d'onda e anche il nostro in format come dicevo prima comunque anche quello esportabile riguardo al fatto dell'interazione noi ci siamo trovati ad affrontare un problema che in Italia è di ordine burocratico nel senso che quando il Ghost Tour è partito come idea Ghost Tour un itinerario nei misteri del Borgo delle Streghe con delle guide narranti sottolineo guide narranti nella nostra ingenuità nella mia ingenuità siamo partiti tranquillamente dopo la prima data di questo Ghost Tour che si è tenuto in serata la mattina ed era domenica ricordo benissimo alle 10 io ricevo un'email dal vicepresidente dell'associazione delle guide turistiche della provincia di Imperia che mi dice guardi lei faccia attenzione perché c'è arrivata una segnalazione e siete in odore di denuncia ho detto ma noi perché la parola guida automaticamente è stata recepita come avete il patentino altrimenti voi non potete fare la guida ora ovviamente non è una guida turistica quella che facciamo noi però la comunicazione è stata probabilmente anche un po' distorta è arrivata in questo modo quindi il discorso dello storytelling poi quindi delle figure che raccontano le storie gli storyteller è nato cioè ha assunto un significato successivo naturalmente ma è nato con l'obiettivo di staccarsi da qualsiasi possibile fraintendimento soprattutto contando che magari i storytelling non sanno neanche cosa significhi e quindi da questo punto di vista eravamo tranquilli io ovviamente feci presente che i nostri attori lavorano su Canovaccio quindi si tratta di un testo quindi una ricerca un testo scritto un'interpretazione ergo non possono rispondere a domande perché se loro rispondessero a una domanda se lì in mezzo ci fosse qualcuno che fa una segnalazione potrebbe dire sono una guida turistica perché le guide turistiche almeno secondo la legislazione regionale della regione Liguria possono oltre a dare informazioni ovviamente più tecniche architettoniche storiche rispondono anche possibili domande del pubblico quindi per trasformarlo in un vero progetto di storytelling così deve funzionare c'è un tipo di interazione che naturalmente verbale e emotiva ma non in questo senso detto questo passerei a faccio solo vedere le prime e beh potete già vedere qua già ci sono due cose Paese delle streghe Triora come è funzionato allora una volta che era sotto questo problema a fare poi il processo di edut edutainment e semplicemente con il fatto che come dicevo prima siamo estremamente tematici quindi affrontiamo delle tematiche che comunque una guida turistica non affronta normalmente perché comunque parlerebbe di edifici io ho comunque dovuto fare un processo di revisione dei testi andando a eliminare qualsiasi riferimento storico o architettonico possibile c'è stato un lavoro di adattamento ce la siamo cavata tra virgolette in questo modo quindi canovaccio testo quindi scritto imparato interpretato su temi non normalmente affrontati questo è un problema molto italiano perché io ho un collega che fa una cosa simile a Praga dove loro non hanno nessun tipo di problema invece dicevo il dibattito quindi era ammesso era concesso un'interazione insieme al pubblico a livello di tra virgolette battuta nel senso che se non si chiedono cose magari viene letto un testo particolare su un trattato del 600 magari anche un po' ironico per spezzare comunque il ghost tour che altrimenti tenderà magari anche diventare un po' pesante allora c'è l'interazione che può essere anche soltanto la risata quello che fa il commento la battuta e poi il momento in cui il ghost tour è fatto a tappe tra una tappa e l'altra è possibile che il pubblico si avvicini anche perché gli storyteller tendono a diventare un po' delle icone un po' carismatici eccetera quindi la gente facilmente può essere che si avvicini ma fare delle domande su perché Triora fu invasa dai lupi nel 500 non credo che rientri in un tema di guida turistica molto più colloquiale poco serioso posso dire noi abbiamo bypassato invece questo problema nel fatto che i nostri spettacoli invece sono realizzati su commissione quindi è proprio il museo o l'area archeologica che ce li commissiona e quindi siamo in qualche maniera autorizzati a usare il loro materiale la loro storia i testi poi rimangono noi non tuteliamo i nostri test in sea e quindi questi testi rimangono a disposizione sia nostra ma in particolare della committenza quindi possono essere anche riutilizzati direttamente da loro e in ultimo a volte si diceva avete il patentino sì perché una delle cose che facciamo è la formazione del personale museale cioè noi formiamo teatralmente il personale museale in modo che siano in grado poi di replicare l'esperienza dell'edutainment di quel testo direttamente loro noi ci abbiamo provato ma siamo stati considerati eretici nel senso che una guida turistica anzi per carità se vai in un castello dire che c'è la storia narrata da testi eccetera che dello just prime notice che era vabbè vero non vero vabbè fatto storico no piuttosto che il fantasma che si dice che comunque rientra nel folklore scritto orale per carità non è assolutamente concepibile il paese delle streghe perché Triora ha questo nome Triora viene sempre associato a il paese delle streghe di base perché nel 1587 si tenne un processo dell'inquisizione che è molto conosciuto perché è molto documentato su tutte le fasi del processo compresi gli scambi epistolari sono tutti documentati e conservati nell'archivio storico di Genova e negli anni ottanti fine anni 80 primi anni 90 hanno avuto questa brillante idea di declinare questa nomea all'epoca e trasformarla invece in una fama quindi positiva di paese delle streghe facendo cosa? semplicemente organizzando un evento estivo che chiamarono Strigora che poi non aveva di base nulla se non uno spettacolo teatrale serale che andava a interpretare il processo quindi fasi del processo prese dai testi dell'inquisizione e da lì nacque poi e si sviluppò e oggi se si gira soprattutto in Liguria ma anche fuori a triore al paese delle streghe e attira un certo tipo di pubblico cioè si è creato proprio un target i darchettoni i wicca insomma pagani sicuramente ma non soltanto loro nel senso loro perché poi vabbè molti vanno a triore al paese delle streghe ma non sanno niente del contesto storico culturale delle streghe cosa ha portato però è il paese delle streghe andiamo al paese delle streghe scusate fa figo è così andiamo al paese delle streghe ci siamo stati bello però nessuno sapeva bene la storia parlano di ghost tour che cos'è il ghost tour sicuramente è molto famoso nei paesi anglosassoni soprattutto tradizionalmente in Inghilterra in Scozia anche in Irlanda poi trapiantato negli Stati Uniti dove esplosa soprattutto negli ultimi dieci anni in concomitanza con il ghost hunting quindi con programmi televisivi come ghost hunters o altri programmi di che cosa si tratta si parte dal presupposto che eliminiamo i sensitivi eliminiamo tutto quello che potrebbe dare l'idea nel contesto di una caccia ai fantasmi quindi in una casa o in altri posti ma conduciamo un'indagine con metodi scientifici cosa significa? portare rilevatori di campi elettromagnetici geofoni quindi che ricevono oppure registrare voci nel campo dell'ultrasuono cioè una serie di apparecchiature che poi vengono sviluppate in un secondo tempo inviate esperti quindi siamo sempre nell'ambito scientifico e poi emergono quelle che loro chiamano anomalie e non gli danno necessariamente un senso spesso sull'onda di tutto questo anche in Italia è arrivato ma la differenza fra ghost walk e ghost hunting è che la ghost walk è un po' sinonimo di ghost tour il ghost tour dà l'idea che magari però nelle grandi città soprattutto appunto nel paese del nord spesso ci sono dei tour bus quindi in questo senso tour quindi ci si sposta da un posto all'altro con questi tour magari con il logo già fatti predisposti per cui la gente impazzisce e noi nel nostro piccolo Triora lo ricordo un piccolo borgo montano dell'entroterra dalla provincia di Imperia circa 700 metri di altezza con 400 anime nel periodo estivo di massima di massimo arrivo di seconde case e tutto spopolato per il resto dell'anno quindi per spostarsi da qui a lì non ci vuole e quindi sarebbe più una ghost walk la ghost walk è più legata al nostro discorso cioè lo storytelling quindi il racconto da tappa a tappa di storie legate a quel posto specifico non necessariamente di fantasmi assolutamente nel nostro caso poi è declinato molto più verso il folklore e comunque deve avere attinenza tuttavia noi ci siamo abbiamo pensato di fare una collaborazione anche perché volevamo vedere che tipo di pubblico avremmo attirato facendo un evento del genere cioè se in Italia c'era effettivamente un mercato per un ghost hunting nel nostro caso con una giunta che mettevamo noi noi come associazione mettevamo la presentazione dei luoghi e tutto l'apparato storico folclorico mentre un gruppo paranormal investigation faceva questa sessione con la gente fornendo loro degli strumenti alla gente che quindi in prima persona poteva raccogliere dati informazioni che poi sarebbero state analizzate e uno potrebbe dire guarda quello l'ho registrato io quindi c'era anche la e questo è il risultato è un trailer che abbiamo fatto che abbiamo messo su YouTube per promuovere questo evento ecco l'evento di base era poi un ghost tour con un surplus alla fine ovvero un incontro all'interno dell'hotel dove è stata fatta questa indagine che era un antico convento francescano che ne ha viste di ogni con la presentazione dei dati acquisiti e analizzati con delle cose interessanti che erano uscite fuori c'era tantissima gente e ricordo sempre che Triora a raggiungerla bisogna essere veramente molto motivati quindi non è un po' si diceva stasera andiamo a bere qualcosa e poi andiamo a Triora bisogna pigliare e partire e come poi vedremo vederò anche dopo la tipologia di pubblico che veniva da tutta Italia per un evento del genere quindi mercato ce n'era però non è il nostro non è il nostro genere noi abbiamo continuato sulla via dello storytelling e del ghost tour in questo senso arrivo lascio la parola a Renato e questo è il risultato il ghost tour che è appunto una ghost walk che non è fiction qui non c'è nulla di inventato è tutto basato su storia e folklore e poi il risultato direi così edutainment perché anch'io non ho scoperto solo recentemente la particolarità per cui ho messo no fiction è perché la gente la prima cosa che dice io poi mi mescolo tra la gente perché sono curioso di sentire quello che ti dicono non in faccia ma che dicono dietro con gli amici dicono ah ma sono tutte storie inventate di solito ah ma quella cosa non è vero ah ma chissà si sono inventati tutto allora è uscito fuori che nel momento in cui i ragazzi si presentano gli storyteller oltre a presentarsi con il proprio nome dicono questa frase quindi quello che sentirete non è frutto della nostra immaginazione ma fa parte della storia delle leggende del folklore popolare è una sorta di manifesto a dire guardate che tutto quello che vi racconteremo è assolutamente vero ovviamente con un contesto più teatrale però è vero metto le foto tue sì noi abbiamo sviluppato invece all'interno dei musei delle aree archeologiche o vedrete anche industriali due tipi di intervento tre tipi di intervento uno è quello che vi dicevo prima la formazione del personale che può poi ripetere l'esperienza l'altra è la costruzione di uno spettacolo ad hoc cioè quindi raccogliendo il materiale creiamo e allestiamo e mettiamo in scena uno spettacolo che è creato per quel luogo quindi molto site specific oppure abbiamo creato dei format che come vi dicevo prima sono facilmente adattabili alle varie situazioni quindi la cornice è la stessa la parte invece rigorosamente scientifica quella della visita guidata dei pezzi da mettere in luce eccetera cambiano di volta in volta a seconda di quale museo o area vai sulla quale vai a intervenire guarda diciamo da da qui allora uno dei questa ah sì grazie si partiamo da questo qui il video puoi? no 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 dal giallo al museo così sotto ah così va bene uno dei format quello che va veramente per la per la maggiore è un giallo si chiama giallo al museo come tipo di format poi viene declinato nei vari interventi nei quali la cornice è assolutamente di fantasia la storia è quella di un del direttore del museo che viene ucciso mi spiace in verità quando il pubblico arriva il direttore è già morto sul sul pavimento c'è la sagoma no e l'idea è quella proprio che è una visita guidata normale in cui il pubblico dovrebbe venire per visitare il museo ma si trova nel mezzo proprio nel mezzo di un omicidio e di conseguenza deve scoprire insieme alla guida insieme a un carabiniere qual è la chi è sta chi è l'assassino che ovviamente si nasconde si nasconde in mezzo al pubblico dov'è la parte di edutainment in questo che tutti gli indizi sono nascosti all'interno dei pezzi del museo o nei pressi dei pezzi del museo di conseguenza diventa una sorta di caccia al tesoro nella quale appunto il pubblico seguendo il filo della narrazione deve visita l'intero museo e si ferma davanti ai pezzi che la committenza ci ha indicato quindi quelli e non altri perché sono quelli più importanti quelli più rappresentativi come in ogni visita guidata non si vede tutto ma ci si ferma davanti a quello che appunto si ritiene più importante e lì appunto si si pescano i nuovi indizi fino ad arrivare alla risoluzione vorrei la cosa di cui ci siamo resi conto è questo intanto che il pubblico è assolutamente trasversale cioè è un'attività che interessa i bambini quanto gli adulti e trasversale anche a livello diciamo culturale nel senso che non vengono soltanto i laureati per intendersi ma proprio è un'attività assolutamente popolare quindi questo è molto funzionale per esempio per i musei per attirare nuovo pubblico quello che per esempio si sentirebbe poco attratto da una manifestazione culturale vista come alta o come impegnativa questa è percepita come divertente come qualcosa di alternativo ad una visita classica e noiosa e di conseguenza attrae molto pubblico tant'è che noi nel tempo abbiamo deciso di contrarre i tempi di realizzazione dello spettacolo giallo al museo dura non più di una trentacinquina quaranta minuti questo ci permette siccome gli spazi museali almeno quelli dove siamo trovati a lavorare noi non sono sempre grandi anzi a volte le stanze sono molto strette ci consente di replicare nella stessa sera lo spettacolo per permettere a più persone di assistervi quindi è una visita che dura quaranta minuti un tempo giusto diciamo in cui la gente non si annoia si diverte e poi si passa al gruppo successivo cosa fanno durante l'attesa gli altri gruppi questa è una cosa molto variegata che noi lasciamo in genere all'organizzazione dei musei o delle amministrazioni locali a volte per esempio fanno serate di degustazione piuttosto che musica insomma quindi mentre il pubblico attende di poter entrare a fare la visita c'è un'attività altra direttamente fuori ecco qui potete vedere vedete che questo è il museo di Chianciano è molto angusto e lì c'è la sagoma del direttore in terra disegnata e l'idea è appunto questa del format giallo al museo in cui c'è una guida in questo caso è un'attrice ma molto più spesso la guida è proprio la guida del museo e il carabiniere invece è un attore a cui è demandata anche tutta la parte leggera quindi lavoriamo un po' sullo stereotipo del carabiniere un po' poco sveglio diciamo mentre la guida riesce come dire a catturare quelli che gli indizi che il direttore del museo ha lasciato durante la sua permanenza nel museo e che permetterà poi di svelare chi è chi è l'assassino se secondo davanti non so che c'è no in verità in verità funziona in due modi a secondo dei format che usiamo in questo caso è la come dire il movente è la gelosia nel senso che il professore voleva chiedere in moglie quest'altro personaggio qua che è la sua assistente e quindi ne crea crea all'interno del museo questa sorta di caccia al tesoro per attrarre la sua la sua amata insomma a un finale romantico nel quale gli fa scoprire l'anello di fidanzamento e invece quella che è la una contessa che è la principale finanziatrice del museo invece innamoratissima del direttore fa fuori per gelosia insomma in questa scusa qua nell'altra invece come nel giallo in biblioteca che vi farò vedere tra poco diciamo che il movente è di altro genere nel senso che è un altro studioso che pensa ora detta così sembra un po' complicata ma poi in verità è molto semplice che il direttore del museo abbia in mano una scoperta molto importante sostanziale e di conseguenza anche qui per accaparrarsi delle ricerche lo uccide e in verità invece la storia era assolutamente romantica quindi tutti quegli indizi non portavano una scoperta nuova bensì all'amore del direttore per la sua assistente questo sempre giallo al museo ha avuto una declinazione che è giallo in biblioteca perché la biblioteca di Siena degli intronati e anche altre biblioteche ci hanno chiesto di poter spiegare al pubblico che veniva il sistema di catalogazione dei libri cioè come possiamo semplicemente far capire come funziona una biblioteca e perché venire in biblioteca e che cosa trovarci e lo abbiamo fatto anche questo con il giallo il giallo in biblioteca si chiama Infolio 229 perché è lo stesso format quindi c'è il direttore della biblioteca che pare abbia in mano l'Infolio 229 dei lavori di Shakespeare sono stati trovati sostanzialmente 228 di Infolio di Shakespeare e nella nostra finzione il direttore della biblioteca forse ha trovato il 229 quindi una scoperta particolarmente importante e con lo stesso format con la gelosia eccetera e chi invece si vuole impossessare di queste ricerche si va a cercare gli indizi all'interno all'interno della biblioteca cercando di capire come funziona la biblioteca quindi se io non so come trovare un libro all'interno della biblioteca non posso scoprire gli indizi quindi questo è uno dei format che usiamo l'altro sì questo è il logo se altre foto perché è un po' laborioso il passaggio quindi sì allora sì sì sempre prendiamo un foto tanto dimmi tu ok già dal museo ho avuto anche un'altra oddio il mac non lo ho detto non lo posso usare ho avuto un'altra declinazione invece sempre per una si chiama ipogiallo perché questo è stato fatto all'ipogiallo di volumni è stato fatto all'aperto fondamentalmente e questo è quello che vi dicevo prima la abbiamo istruito il personale del museo e quindi loro continuano a fare questo questo giallo normalmente soprattutto per le scuole per i bambini e lo fanno ormai ormai da anni quella che vedete che il badge della guida è veramente la guida dell'ipogeo di volumni che è un'altra area davanti insomma per esempio in questo in questo caso ve lo portavo soltanto come esempio uno degli indizi era nei pressi di questo pezzo che è particolare non tanto per l'interesse storico ma è molto ricercato dal pubblico viene riportato su ogni guida perché è stato restaurato male cioè c'è una una testa di donna su un corpo di uomo e quindi questo è è stato uno degli indizi si veniva ritrovato là questa è un'esperienza fatta con le scolaresche che lo fanno un po' di continuo questo per quanto riguarda poi non so vuoi parlare un po' tu poi io vi parlo della seconda parte cioè quello del spettacolo questo è il format quindi lo possiamo applicare ogni volta e se no poi abbiamo proprio lo spettacolo creato per così ci alterniamo un po' non so se ci sono dei interventi vorrei chiedere qualcosa da quante persone poi è composto il gruppo di turisti di turisti questo dipende molto dalla capacità ricettiva del luogo ve lo faccio vedere dopo però uno degli spettacoli che abbiamo fatto non so se qualcuno di voi è mai stato Orvieto l'abbiamo fatto all'interno del pozzo di San Patrizio il pozzo di San Patrizio di Orvieto è una scala cioè una doppia scala elicoidale difficilissimo a dire cioè è tipo i parcheggi multipiano per intendersi c'è una scala che scende fino all'acqua e un'altra scala che sale e ritorna e ritorna su dopo ve lo faccio vedere e considerate che essendo una scala dove passava un cavallo è quella la grandezza è un corridoio quindi lì abbiamo dovuto ripeterlo cinque volte mi pare nella stessa serata per un massimo di 15-20 persone se le strutture sono più grandi si può fare quante volte ovviamente il cast invece è ridotto si parla di quattro tre quattro massimo cinque persone non di più vanno? le altre domande? no non ho bisogno sempre sempre ok torniamo a Triora è quello lì questo piccolo borgo arroccato nel mezzo del nulla però non è sempre stato così perché soprattutto fino al 600 veniva chiamato il granaio della Repubblica di Genova perché comunque a valle c'erano tutti i terrazzamenti c'erano grandi coltivazioni ed era anche un posto di passaggio poi negli anni 60 del 900 hanno costruito una strada regionale più a valle e da quel momento ha cominciato a spopolarsi perché non era più luogo di passaggio non ha più senso passare di lì e così è cominciato un po' il degrado poi recentemente molti stranieri come stanno facendo anche in altre parti del ponente hanno cominciato ad acquistare le case a ristrutturarle e anche in genere dove vanno gli stranieri che comprano in questi posti comunque hanno una sensibilità culturale notevole tendenzialmente magari aprono anche delle botteghe di artigianato eccetera comunque danno anche un po' di vita per farvela breve questo processo fantomatico una grande carestia non si sa a chi dare la colpa la colpa delle streghe di queste donne che si diceva si riunissero in un luogo particolare detto la cabotina e poi insomma gli venivano attribuite non sto neanche a spiegarvelo qualunque cosa in particolare di andare con il demonio e quindi come dire quando noi noi abbiamo organizzato anche due festival lì a triora prima di spostarci perché problemi con l'amministrazione tanto per cambiare però ci siamo impiantati in un luogo che aveva già un'immagine molto forte cioè quindi noi siamo andati a lavorare di cesello perché non dovevamo inventarci anzi abbiamo avuto il problema contrario perché la gente diceva il ghostura basta queste streghe hanno fatto un'altra roba sulle streghe il nostro ghostura ha dieci tappi di cui una è dedicata il processo alle streghe ci sono tantissime altre cose torno alle biblioteche da toppo di biblioteca me le sono fatte tutte da noi a recuperare storie che non fossero necessariamente legate e questi sono alcuni dei luoghi del ghostura per darvi un'idea anche di cosa stiamo parlando questo è un quartiere che si chiama Borgossano Burushani in dialetto perché durante la pestilenza del 1348 si diceva che chi abitava lì fosse rimasto immune dal morbo perché si diceva che essendo in una pendenza particolare c'erano correnti d'aria in più quando pioveva l'acqua puliva ecco questo è secondo la scritta non ci siamo messi con lo spray a farla è fatta in photoshop questa è la piazzetta con la chiesa il santo patrono è San Giovanni c'è una processione molto importante l'oratorio che avete lì dietro è proprio quello di San Giovanni ecco questa è la famosa cabotina in realtà questa è stata anche molta opera di un frate storico che operò fino a prima della seconda guerra mondiale che rivalutò un po' tutto questo discorso delle streghe cioè recuperò gli atti ufficiali scrisse diversi libri ma alcune cose sono opinabili obiettivamente adesso sono state un po' contestate da alcuni storici contemporanei però tra le varie cose che fece ad esempio mettere questa targa può lapidare a memoria quel famoso luogo la cabotina di cui vi parlavo prima questo è uno dei vari carrugi noi li chiamiamo carrugi sono le vie strette dei borghi medievali ecco questa è invece un'altra tappa del ghost tour che è interessante perché un antico palazzo il più antico palazzo di Triora contava 50 stanze gigantesco nelle segrete erano state rinchiuse alcune delle donne vittime del processo è stato acquistato recentemente da un regista norvegese è un cantiere al momento anche in alcune parti non agibile abbiamo chiesto il permesso al proprietario per poter accedere però siamo costretti per far firmare una liberatoria dove comunque noi facciamo presente che il luogo ha delle oggettive criticità questa è una vista di questo palazzo dall'esterno perché all'esterno c'è quella che è la tappa in assoluto più buia del ghost tour dove invitiamo la gente a venire armati di torce perché altrimenti è difficoltoso dico ancora questo poi ripassiamo allora il discorso dei testi allora fonti scritte e fonti orali la parte principale ve l'ho detto sono andato a recuperare tutti gli iscritti questo frate che ha messo appunto ha recuperato gli atti sono andato a recuperarmi gli atti in prima persona ma a parte e poi vabbè questo per le streghe però per tutto il resto sono andato negli istituti studi Liguri io ho cominciato e ho contattato gli storici perché poi la cosa migliore da fare i libri per carità però avere la possibilità di uno storico locale che ti sappia indicare dare informazioni indirizzare importantissimo e poi ho cominciato a fare delle interviste a storici e abitanti del luogo a vedere se riuscivo a carpire qualche storia che sui libri era impossibile trovare e riguardo ai temi sono molto vari si parla ad esempio un tema una delle aree cimiteriali più importanti di Triora dove facendo degli scavi hanno recuperato delle ossa umane in quello che è attualmente il boschetto cioè dove giocano i bambini e in tempi recenti parliamo quindi degli anni 60-70 quindi preso la storia di quelli che presero con le cariole i resti umani se li portarono su al cosiddetto Carmo delle Forche dove oggigiorno c'è il cimitero si parla di di alchimia e di unguenti c'è una storia molto interessante che ho recuperato che riguarda non direttamente Triora ma la zona sono state scoperte nella farmacia del borgo di Dolceacqua che è sotto Triora della famiglia Doria con cose particolarmente interessanti fra cui questa storia dell'unguento armario l'unguento armario rientra nel campo delle polveri simpatetiche ossia parte del presupposto che in natura ci siano due forze contrarie e agendo su una si agisce anche sull'altra quindi intervenendo in questo modo con queste polveri si poteva ottenere un effetto in questo caso benefico sul corpo umano agendo su qualche cos'altro la particolarità di questo unguento armario armario perché perché si narra della storia di questo duca della famiglia Doria che venne colpito da un proiettile di un'arma da fuoco sembrava rimettersi in realtà peggiorò la ferita si infettò e un vulnerario che era il medico di guerra provò una di queste polveri simpatetiche questo unguento armario e dove lo mise? sulla ferita no sull'arma cioè l'unguento veniva messo sull'arma da fuoco perché si dava c'era questo discorso agendo in qualche modo sulla causa del danno si andava ad agire beneficamente anche sul danno questo comunque per dare e tanti altri temi dopo ovviamente aver raccolto tutti i testi si trattava di riprodurli adattarli in modo che comunque fossero fruibili dal pubblico onde evitare che uno da Milano che veniva a tre ore se ne andasse via dicendo ma è stata una noia mortale in effetti è stato un po' una serie di tentativi onestamente parlando il primo ghost tour era mortalmente noioso gli stessi li ho scritti io l'ho seguito e mi sono detto ma non so come la gente non possa andarsene via a chiedere i soldi del biglietto indietro però non ti rendi conto bene no? comunque devi viverla e c'è stata tutta una fase di adattamenti ancora un paio di volte fino all'adattamento definitivo in cui sono riuscito a trovare l'alchimia giusta e da allora non è più cambiata l'alchimia giusta significa che la gente viene segue un'ora e 45 di tour non 30 35 minuti un'ora e 45 comunque si parla di miti si parla delle leggende dei miti di mitra la sovrapposizione fra culti pagani e culti cristiani cioè comunque ci sono anche cose un po' più pesanti eppure la gente quando va via si avvicina si avvicina a me a stringere la mano a ringraziare tutti perché si sono trovati benissimo c'è gente che è tornata due volte tre volte e soprattutto il passaparola è stato fondamentale e poi vi dirò dopo il passaparola l'ultima cosa il discorso della musica vi dicevo prima che ho recuperato un po' di storie interessanti parlando con un abitante di Triora ho recuperato questa fiaba per bambini che in sintesi dice che il figlio di un ciabattino una sera si ritrovò fuori dalle mura la sera le mura di Triora venivano chiuse il portale veniva chiuso non le mura il portale sulle mura veniva chiuso e si ritrovò fuori da solo questo bambino aveva una gobba l'indomani quando i genitori lo ritrovarono quando veniva riaperta la porta il bambino era senza gobba era guarito non aveva più la gobba allora si disse sono state le streghe le streghe hanno rapito il bambino l'hanno portato da loro e gli hanno tolto la gobba siccome c'era un altro ciabattino concorrente e il figlio aveva lo stesso problema disse ok l'altro ci è rimasto casualmente fuori no noi ce lo chiudiamo fuori nostro figlio così ci ritorna senza la gobba il problema è che l'indomani mattina il bambino tornò con due gobbe perché gli misero quella dell'altro questa è la storia questa storia io l'ho data a un artista a una musicista che suona l'arpa celtica lei l'ha musicata ed è diventato una delle particolarità quindi abbiamo aggiunto l'elemento musicale al ghost tour e questo è il percorso che noi diamo una mappa che è divisa in tre ci sono diverse aree è dedicata appunto ai morti piuttosto che alle streghe e altro questo è il grimorio di cui poi vi parlerò e questo invece è l'arpista che vi dicevo ok questi vediamo dopo prego inizialmente era una noia mortale il primo e poi com'è stato vivacizzato cioè com'è stato modificato per poter attirare l'attenzione dello spettatore diciamo che la discriminante è stata la eccessiva attinenza storica c'è troppe parti storiche che emergevano dai testi che avevo recuperato e quindi molte date e molti elementi che era importante dare un contesto naturalmente storico però forse non c'era un equilibrio tra la parte di intrattenimento e la parte educativa in questo caso storica come se ho fatto semplicemente ho tagliato di netto alcune cose c'era un mistero che era interessante perché c'è tutta una leggenda di un tesoro napoleonico che era carino nel momento in cui l'ho trovato questa cosa messa per iscritto e interpretata non funzionava quindi a malincuore quella parte l'ho tolto ho tolto altre parti ho eliminato parti del percorso c'era una parte che era troppo lunga ed era troppo diluiva troppo cioè solo il percorso da arrivare da un punto all'altro mi prendeva 15 minuti cosa che non aveva senso quindi ho eliminato dei pezzi del percorso ho eliminato degli argomenti del percorso e ho dato più sostanza ad alcuni fatti di Triora perché alcune fonti sono molto scarne andando a inserirli in un contesto più ampio quindi se io parlavo delle invasioni dei lupi del Cinquecento perché Triora fu invasa dai lupi con tutte queste storie il lupo era una figura era un nemico storico delle Alpi Liguri io ho aggiunto che siccome i lupi facevano così paura ed erano entrati nell'immaginario anche mostruoso perché poi si passa il passo è breve i lupi che divorano gli uomini i lupi mostri allora sono andata a recuperare da un archivio della diocesi di Ventimiglia e comunque Triora faceva parte per un periodo un trattato sull'alicantropia cioè come veniva vista l'alicantropia nel Seicento con un tratto ironico perché serve stemperare ogni tanto ci sono almeno due o tre punti del percorso in cui si dà un minimo di ironia per distendere e lì era una descrizione molto ingenua in cui si diceva come riconoscere se come dire il vostro vicino di casa è un lupo mannaro detta un po' così tipo il pallore non piange mai perché non ha lacrimazione non ha salivazione fa così allora vedi che la gente comincia a guardarsi un classico ma lui ecco perché non piangi mai allora si fanno le battute fra di loro si crea allora il mormorio la gente ride e poi la battuta finale che ho dato andate prego in bocca al lupo per concludere la cosa e quindi questo in questo modo quindi ampliando lo spettro tagliando i rami secchi a tentativi finché poi ho trovato la formula l'alchimia la formula giusta sì l'alchimia grazie sì quello di rendere interessante qualcosa che è potenzialmente noioso è il grande tema dell'edutainment fondamentalmente e anche noi abbiamo risolto questo questo problema affidando a un personaggio la parte più leggera quindi mentre per esempio nel giallo c'è il carabiniere che è veramente è divertente fa battute non capisce usa giochi di parole quindi come dire la scrittura il ritmo nella scrittura teatrale come in ogni forma di teatro è assolutamente fondamentale insomma quindi va va tarato anche quello quanto deve essere la parte comunque conoscitiva rispetto alla parte anche spettacolare la parte proprio della performance teatrale in quanto tale vi dicevo sì quindi noi abbiamo questi due format uno è il giallo al museo l'altro ve lo accenno solo poi vi faccio vedere invece la sua evoluzione si chiamava si chiama a spasso nel tempio perché anche questo era fatto all'interno di un di un museo etrusco e l'idea era quella del viaggio nel tempo cioè c'è un ricercatore che grazie a una macchina nel tempo strampalata torna indietro e incontra i personaggi che in quel momento sono esatto il museo qui mi vede protagonista molto in gioventù in questo caso Virgilio che veniva a passare le acque in Toscana veniva a fare la cura delle acque e appunto seguendo Virgilio il professore capisce di più di quello che sta vedendo da qui c'è stata un'evoluzione ce ne sono due vai davanti freccetta no volevo uscire e andare a vedere ah no te le metto io allora se vuoi dimmi tu quella del visto che abbiamo parlato del Pozzo di San Patrizio si chiama Magnifica Historia credo ok e e questo ha avuto l'evoluzione appunto in questo lavoro che abbiamo fatto all'interno del del Pozzo del Pozzo di San Patrizio allora se se andiamo un po' va vai tu vai tu vado veloce allora questo questo è il Pozzo di San Patrizio quindi è un pozzo con le scale si scende lì in basso dove vedete la luce c'è l'acqua c'è una passerella in cui si passa dalla scala da dove si discende alla scala da dove si risale e l'acqua l'idea è proprio è stata quella cioè di portare in avanti nel tempo colui che l'ha costruito cioè l'architetto Sangallo e il suo aiutante all'aiutante in questo caso è stata affidata la parte leggera è un altro diciamo inadatto alla costruzione è un un aspirante architetto l'idea era semplicemente questa che l'architetto da Sangallo grazie a un libro di alchimia vuole tornare indietro nel tempo ma siccome il suo per recuperare la donna amata anche in questo caso e soprattutto per salvare la sua città la sua città siccome questo libro viene usato dal dal suo aiutante invece di andare indietro nel tempo va in avanti e si ritrova esattamente nel suo pozzo nel momento in cui guarda caso c'è la visita guidata e quindi l'incontro tra l'altro alterandosi alquanto perché il pozzo si chiama di San Patrizio e non il pozzo di Sangallo cioè perché l'ho costruito io perché l'avete chiamato in un'altra maniera e torniamo indietro un po' e quindi ecco questa è la grandezza per rispondere alla tua domanda del pozzo di San Patrizio forse un metro e mezzo di larghezza e quindi gli attori in questo caso due più c'era la guida più una inserita all'interno del pubblico e più c'era un'altra che però lavorava solo sulla passerella cioè nell'unico punto che era visibile a 360 gradi come vedete lavoravano in condizioni cioè proprio schiacciati contro il muro per permettere la visione questa è la risalita e questo è il pozzo di San Patrizio all'esterno questa è la locandina ecco qui potete vedere meglio la grandezza insomma proprio minuscola e questa è la passerella e anche qui abbiamo qui abbiamo lavorato invece in modo ibrido o meglio c'erano i due attori principali che sono due attori della nostra compagnia e tre del personale tra cui la guida ovviamente tre del personale del di sistema museo che è la cooperativa appunto che gestisce che gestisce il pozzo e anche qui insomma abbiamo formato il loro personale e la cosa interessante è stata anche la scrittura che è stata una scrittura collaborativa nel senso che loro le guide ci hanno dato hanno scritto il materiale cioè hanno proposto che cosa avrebbero voluto raccontare quindi con la loro conoscenza con le leggende si narravano con il materiale scientifico di cui loro erano a conoscenza e poi il nostro autore Lorenzo Meacci l'ha ricucita tutto e poi l'abbiamo messo in prova e l'abbiamo portato ok questo è un altro dei personaggi questa è la passerella è finita lì e poi ecco durante la risalita invece diciamo che lo spettacolo si svolgeva in discesa durante la risalita c'era una voce narrante invece con la lettura di un documento storico sulla costruzione del pozzo e c'erano delle scene tipo tableau vivant che la gente poteva vedere attraverso le finestre risalendo di contro invece scusa io il mac tranquillo certo più di una vi occupate anche di formazione ok su che cosa verte la formazione nel senso se esiste un programma didattico da poter dire qui insomma la formazione ovviamente è di tipo teatrale cioè nel senso quello che cerchiamo di dare è gli strumenti alle guide che comunque hanno già un loro come dire background relazionale con quella gente che viene a vedere i musei o comunque partecipa alle visite di dargli degli strumenti teatrali di come trasformare per esempio il loro conoscere tecnico in una performance di tipo artistico teatrale insomma questo è fondamentalmente poi gli diamo piccoli strumenti anche di improvvisazione in modo che possano in qualsiasi momento interagire in maniera adeguata insomma col pubblico sintesi è un po' questo e poi ecco per loro è un'esperienza per esempio costruire insieme lo spettacolo quindi proprio dalla base e quindi loro acquisiscono tutta una serie di strumenti che possono in qualsiasi momento riutilizzare per qualsiasi altro tipo di iniziativa infatti a un certo punto diventano in qualche maniera autonomi e quindi succede che sono proprio loro che organizzano all'interno del museo qualche tipo di avvenimento questo è un altro tipo di intervento invece che è proprio di animazione teatrale all'interno di un locale anche qui ci sono io qualche chi lo fa questo è il castello Bufalini a Sansepolcro che è un castello meraviglioso appunto della famiglia Bufalini che è stato recentemente restaurato riportato all'antico splendore e il giorno dell'inaugurazione quindi abbiamo fatto un intervento mirato per l'inaugurazione ci è stato chiesto di animare le stanze l'idea qui è stata quella di riportare in vita la famiglia Bufalini come invitati veramente all'inaugurazione e venire ad ammirare il loro palazzo riportato finalmente allo splendore anche qui come si fa a contestualizzare bisogna trovare qualche idea quindi c'erano membri della famiglia Bufalini cioè attori che descrivevano le stanze del palazzo dove hanno vissuto la loro vita e una parte che comunque doveva essere leggera perché comunque dobbiamo in qualche maniera rendere attrattivo l'intervento e in questo caso ecco questo è Palazzo Bufalini all'interno qui ci sono i due personaggi all'opera allora questo era appunto durante l'inaugurazione il personaggio che io interpretavo che era appunto il padrone di casa dava il benvenuto alla gente quelli che sono da dietro sono l'assessore della cultura il presidente della regione il presidente degli antimuseali quindi lasciarono a me l'onore di di aprire questa cosa quindi chiaramente fu tutta una gag sul fatto di usare il microfono che io non sapevo come fare eccetera e l'inizio fu benvenuti a casa mia loro ci avevano messo i soldi io ci avevano messo la casa fondamentalmente ecco la parte leggera appunto era dedicata al mio personaggio che era malato di sindrome di Stendhal di conseguenza ogni volta che entrava nelle stanze meravigliosamente restaurate sveniva addosso la gente e questo insomma alleggeriva molto ok se vuoi dire qualcosa tu poi io posso tornare come vuoi ah ok se mi dici altre immagini che vuoi che ti metta prima di farvi vedere un l'ultimo caso per quanto ci riguarda che è proprio quello che citava prima Fabio cioè un lavoro che abbiamo fatto all'interno di un sito minerario sul monte Amiata dove c'erano le miniere di Mercurio che sono state chiuse negli anni 70 e lì le gallerie e i forni e i siti minerari stanno lentamente restaurando ed è un bel esempio di recupero di architettura industriale che hanno tutta una loro storia prima di farvi vedere questo magari lo lasciamo in ultima vi faccio vedere soltanto per riportarvi un ultimo esempio il Femelab per favore ma intanto sono solo due foto noi stiamo collaborando da circa tre anni con Femelab non so se qualcuno di voi lo conosce è un format del British Council ed è molto interessante è sempre un edutainment divulgativo nel senso che è dedicato agli scienziati è un contest quindi è una gara tra scienziati che hanno tre minuti di tempo per spiegare al pubblico in maniera come dire leggera divertente ed efficace e teatrale un concetto scientifico complesso noi stiamo collaborando in vari modi sia con workshop e facendo parte della giuria ovviamente la parte teatrale per la parte scientifica assolutamente no e anche come esempio di come si può usare la scienza decontestualizzandola nel senso che a volte facciamo degli spettacoli in cui noi chiediamo di improvvisazione quindi improvvisiamo delle storie per il pubblico chiedendo informazioni agli scienziati quindi per esempio chiediamo quattro termini scientifici che sono poco conosciuti di cui non sappiamo il significato e li inseriamo a caso all'interno di una storia eccetera e quindi come dire usiamo la nostra nostra conoscenza di improvvisazione teatrale all'interno di questi di questi eventi appunto per legare il teatro alla scienza mentre loro appunto costruiscono un concetto rigoroso presentano un concerto rigoroso attraverso il teatro noi smontiamo e usiamo i concetti rigorosi per fare teatro quindi viene visto da tutte e due le parti e basta adesso ad esempio in FameLab una cosa che raccontavo era molto interessante per farvi un esempio di cosa fanno gli scienziati durante FameLab nei loro tre minuti c'era un medico perché poi ci sono medici, matematici chimici eccetera un medico che doveva far capire come concetto quello che i recettori del dolore l'informazione del dolore attraverso il sistema nervoso passa più lentamente di quella del tatto no? e quindi diceva per questo che quando per esempio ci si fa male si batte la testa la prima cosa che si fa è questa perché il tatto bypassa il dolore e quindi sento meno male perché sento più il tatto e lei aveva fatto tutta questa questa storia era diventata da poco madre diceva ecco perché la miglior cura per un bambino che si fa male è il bacio della mamma quindi questa è fondamentalmente la cosa che si fa sono sempre provvista sono sempre provvista ma io sto facendo questa gag apposta non per essere così volgari e rozzi dalla prima domanda l'ordine di grandezza del ticket chiamiamolo così è in qualche modo autoremunerativo oppure c'è bisogno di sovvenzioni assistenza in qualche modo collaterale ok questa è un'ottima domanda infatti dicevo ci volevo arrivare in fondo allora quanto costa uno spettacolo di detainment mettiamola così perché poi questo è il grande allora in genere sono attività promozionali e quindi noi lavoriamo su commissione quindi noi viene pagato l'intero ITER come dire non è particolarmente costoso proprio perché le risorse sono essenziali cioè la risorsa principale è il luogo quindi noi quello che dobbiamo mettere in evidenza è il museo il palazzo il sito minerario eccetera se non ci sono particolari problemi tecnici noi usiamo la luce del museo perché è una visita guidata quindi non c'è bisogno di un service non c'è bisogno di una regia luci non c'è bisogno nulla i costi sono quello degli attori e quello della scrittura e della ricerca noi siamo diventati abbastanza rapidi in questo di solito appunto essendo attività promozionale il pubblico in genere non paga nel senso è proprio la vengono a ingresso libero ma essendo appunto una visita breve per esempio di 30 minuti in cui ti faccio vedere soltanto alcune cose molto spesso è capitato che il pubblico torna e paga il biglietto perché ripercorre l'esperienza con diciamo il senno di poi insomma con quello che stava fatto diciamo che un intervento in un museo normale poi vi faccio vedere un intervento che invece è stato una sorta di concerto di Pink Floyd per noi può costare dai 2.000 ai 3.000 euro insomma e considerando però ha avuto anche può avere ricadute di molti generi non ultimo quello che il testo rimane nella nella disponibilità dell'ente che lo commissiona e poi dopo dipende come ci si vuole lavorare insomma se siamo noi che lo dobbiamo mettere in scena a fare tutto è un discorso se dobbiamo formare il personale non altro ma insomma nell'ordine di grandezza più o meno può essere una cosa che già quindi neanche troppo per rispondere invece io alla nostra domanda dunque noi non abbiamo nessun rapporto con il Comune di Triore in realtà sembra paradossale ma nel senso che varie problematiche cioè praticamente noi siamo in questa situazione paradossale in cui noi facciamo una promozione spietata al territorio in ogni forma in ogni contesto contro la volontà del territorio in cui noi operiamo questa è la nostra situazione attuale questo per dire che quindi non abbiamo nessun tipo di contributo economico dal Comune il Ghost Tour si autofinanzia è autosostenibile quindi ogni data finanzia la data successiva questo con dei ovviamente con dei problemi perché non avendo un budget di partenza anche minimo io non sono in grado di fare delle spese non posso sapere se posso acquistare delle luci o degli oggetti scenici perché non so come andrà la data successiva è sempre un po' un ternalotto poi è andata bene anche noi di costi alla fine abbiamo la scrittura di testi abbiamo i ragazzi che fanno il storyteller qualche accessorio quest'anno abbiamo fatto l'anno scorso avevamo una data alla settimana a partire da metà giugno fino a metà settembre un incubo quest'anno abbiamo fatto una data ogni due settimane fra luglio e settembre con circa 2000 euro abbiamo pagato tutto alla fine poi la differenza la fa anche il fatto se è un format adattato che per noi è molto più semplice quindi prendiamo giallo a un museo e lo riadattiamo alle esigenze o se dobbiamo costruire invece uno spettacolo ad hoc questo è l'unica discriminante da noi è che entriamo a parlare degli storyteller abbiamo cominciato non avendo un budget con amici conoscenti attori in erba wannabe e persone semplicemente che non hanno neanche mai avuto nessun tipo di esperienza nell'ambito quando poi abbiamo provato a fare il salto quindi coinvolgere da quest'anno degli attori professionisti si è creato anche lì il problema di dire caro attore professionista tu mi chiedi una cifra che io non posso nel senso potrei ma non so quindi una situazione un po' imbarazzante quando si ha a che fare con un artista no e fortunatamente abbiamo trovato delle persone degli attori professionisti che hanno creduto molto nel progetto e quindi ci hanno fatto un prezzo veramente inferiore al loro abituale e l'abbiamo portato al massimo poi lo vedremo dopo in una data speciale che abbiamo fatto del ghost tour in periodo di Halloween ma precedente per non sovrapporci alle loro manifestazioni dove lì abbiamo preso tutti gli storyteller dell'anno perché si avvicendano ogni data non si sa chi si trova potrebbe cambiare di sicuro che vanno sempre in coppia nei vari tentativi di cui si parlava prima con i testi c'erano anche dei tentativi a livello di interpretazione dei testi anche a livello di comunicazione di empatia con il pubblico e dopo vari tentativi soprattutto l'anno scorso alla fine abbiamo trovato l'alchimia anche su quello in particolare due ragazzi che sono i due dietro una ragazza sono sempre in coppia anche un ragazzo e una ragazza e la ragazza di solito è quella che porta gli oggetti di scena che adesso vi dirò e loro hanno fatto più o meno la gran parte del ghost tour quindi anche con costi sostenibili invece ad Halloween abbiamo ripreso altre coppie abbiamo formato quattro coppie di storyteller dove avete visto prima il percorso una coppia accoglieva il gruppo lo traghettava per due o tre tappe lo lasciava la coppia successiva che lo traghettava per altre due o tre coppie e così via fino alla fine e quindi era un mix di attori professionisti storyteller professionisti attori non professionisti come una ragazza che non aveva nessun tipo di esperienza l'immagine per noi è tutto cioè è tutto siamo in un'epoca in cui vigil mi piace su facebook come ottenere mi piace su facebook con belle immagini con belle immagini dopo esperienza i video vanno meno l'immagine è quello che fa e questa è una cosa che noi abbiamo sempre avuto io mi occupo di grafica e sempre dalla prima edizione tipo la scelta del manifesto la scelta dell'immagine per gli stampati cioè siamo comunque ci sono tantissime l'offerta è sterminata magari vabbè di questo tipo non così sterminata però ci sono tante cose bisogna emergere quindi nel nostro budget complessivo ora non parlo del ghost tour parlo di festival il 20% va soltanto nella parte di grafica e stampa il ghost tour ad esempio che deve essere sostenibile e non possiamo sostenere dei costi di stampa viaggia sui pdf quindi sulle brochure interattive anche perché poi ci arriverò noi non abbiamo un pubblico locale il nostro pubblico non viene nella nostra provincia neanche dalla provincia di Savona il nostro pubblico viene da Genova in poi il nostro pubblico viene dal Piemonte dalla Lombardia dalla Val d'Aosta dal Veneto che senso ha fare delle brochure che per quanto hai una distribuzione capillare che ti costa se non la fai tu dove puoi arrivare a Genova non aveva senso questa è una cosa che abbiamo maturato non soltanto con il ghost tour ma anche con il festival perché investire in marketing e in promozione locale dal nostro punto di vista non aveva senso allora lavoriamo sul nazionale lavoriamo sull'internazionale poi nel segmento lo prendiamo il locale ma perché limitare il target mandiamolo all'infinito il target poi tutto quello che viene in mezzo è tutta cosa che torna a noi noi abbiamo avuto con il festival il pubblico che veniva dalla Germania dal Portogallo da Israele dagli Stati Uniti comunque è un festival che è molto particolare evidentemente la gente era disposta a viaggiare in questo modo il ghost tour nel suo piccolo è lo stesso ne parlavamo prima il ghost tour dura un'ora e 45 e si svolge di sabato nei sabati estivi gli eventi di questo tipo non abbiamo nient'altro cioè non è che dopo c'è uno spettacolo il giorno dopo c'è altro non è come il festival che uno viene e si fa tre giorni ma in quei tre giorni si paga il viaggio da dormire però si vede tante cose noi doffriamo solo quello la gente viene viene dal centro Italia viene dal nord Italia viene c'è gente che veniva apposta facendo le macchinate tipo da Firenze un gruppo una guida turistica tra l'altro di un museo di Firenze sono venuti con la macchinata da 5 e se ne sono tornati in nottata contentissimi ci hanno fatto una promozione spietata lei che comunque era nell'ambito tra l'altro hanno mandato i loro amici e per noi il passaparola è stato in questo caso soprattutto assolutamente significativo perché comunque molti venivano io sono venuto perché me l'ha raccontato il mio amico anche perché non avendo stampati comunque la gente come viene a conoscenza del nostro ghost tour se non attraverso internet facebook io ho una pagina facebook però anche questo poi magari ci arriviamo dopo torniamo un attimo agli storyteller così chiudo la domanda è relativa proprio a quello che hai detto prima perché è curioso noi ieri abbiamo parlato proprio di teatro sociale teatro di comunità quindi come collaborare con la comunità per creare una serie di iniziative che coinvolgono il teatro quindi la domanda era come mai non proprio la comunità non non è stata cioè o meglio non da nulla al progetto o è il progetto che si è inserito in maniera aggressiva nella comunità cioè perché non c'è stata una risposta positiva intendi cioè come è avvenuto volevo chiamare in causa pure Ezio che ieri proprio ha parlato di questo cioè di animazione di comunità attraverso queste attività che a vederle così sono attività che assolutamente valorizzano il territorio eppure il territorio stesso è refrattario aspetta dividiamo fra comunità e amministrazione però tu hai detto che anche la gente del posto comunque non viene a vederlo perché l'ha già visto? no ma non di Trio ah tu dici no vabbè la provincia di Imperia in generale quando dico locale mi riferisco tipo quello di Sanremo che può venire lì è una scommessa persa io ci ho investito per diversi anni è brutto a dirsi però abbiamo una tipologia di gente da noi che non ha un grande interesse non si appassiona facilmente alle cose è tendenzialmente apatico e se deve andare a eventi va nelle sagre che noi abbiamo in quantità sterminate io ho provato soprattutto un anno adesso non ricordo se era il 2008 o 2009 ho detto ma riproviamoci e ho provato a fare eventi proprio mirati per comunque il territorio più alla portata le uniche risposte che ho avuto sono state quando ho coinvolto le scuole un anno abbiamo avuto come ospite Neil Gaiman non so se lo conoscete comunque scrittore famoso e con lui abbiamo avviato un progetto con le scuole praticamente scuole elementari ogni classe quindi ogni maestro della classe sceglieva un libro di Neil Gaiman e l'avrebbe discusso affrontato durante l'anno durante l'anno in realtà due o tre mesi ecco diciamo i tempi in cui era stata data comunicazione di questo e i bambini avrebbero preparato delle domande da fare poi all'autore e a fine anno da quel libro avrebbero fatto un saggio teatrale di fine anno per la scuola e questo ha avuto una grandissima risposta veramente notevole siamo riusciti a coinvolgere io non ci avrei scommesso niente sinceramente ma quando si tratta di altre cose o gliele porti a casa sotto casa se no è estremamente difficile coinvolgere sì ieri parlavamo proprio di questo di questo aspetto qui che molto spesso crea il fallimento dei progetti e sta proprio nell'idea mito di rete networking che spesso non non siano gli strumenti per concretizzarla questa rete cioè il fare rete non è soltanto una messa in comune no cioè chiamo dei partenariati lettere di intenti o quant'altro ma è riuscire a percepire il vero interesse del comune dell'associazione locale o dei gruppi informali che esistono nelle varie realtà e di esplicitarlo cioè non basta neanche soltanto riuscire a capire che l'interesse che so del comune perché ti dia un finanziamento a un progetto del genere o te lo dà per un sistema relazionale o te lo dà perché lui ha un tornaconto in termini di visibilità e di consenso cioè non ti darà mai un ritorno perché il progetto è carino è bello eticamente corretto no non esiste e stiamo qui stiamo nella mesosfera allora riuscire a capire che anche l'interesse che riguarda di visibilità e consenso ancora sono parole vaporose visibilità e consenso cioè bisogna declinarle effettivamente in che cosa rispetto a questa rete il comune li può tornare ma in maniera concreta e bisogna esplicitarlo bisogna esplicitarlo attraverso dei tavoli dei tavoli di concertazione veri e propri e soltanto attraverso questi tavoli e quindi esplicitando l'interesse del gruppo informale dell'associazione di quartiere delle varie realtà che io posso intercettare in un territorio solo esplicitando il vero interesse di ciascuno di loro riesco a creare un'effettiva rete se no rimane una lettera di intenti un partenariato rimane una cosa bella e niente di più in realtà ci ho pensato anche io a quello nel senso che poi un comune appunto come dici tu sì sì siete belli simpatici e tutto però poi alla fine se non mi portate niente perché dovrei darvi il punto è proprio questo che noi tutto quello che abbiamo fatto lo dobbiamo alla regione Liguria quindi a un ente e questo ci tengo a sottolinearlo senza la regione Liguria noi non saremmo qui non avremmo fatto nulla quindi ha bypassato la realtà locale la regione cioè quello che non abbiamo avuto dalla realtà localissima l'abbiamo avuto dalla regione dopo due edizioni in cui comunque fai un minimo di tornaconto ma banalmente ma ve lo dico a bilancio quanto tu mi hai dato quanto io ho speso in totale quanto hai ottenuto ok quindi parliamo proprio in numeri allora esce fuori che tu hai avuto per sei mesi articoli ovunque sei uscito su riviste hai avuto un ritorno in termini di pubblico le sere dell'evento tutti i b&b erano pieni la gente è andata a mangiare fino a 50 km di distanza perché non trovava dove andare a mangiare tutta la provincia era piena solo per quell'evento in più io ho un evento da 100 tu mi hai dato 2 io ti ho messo 98 e ho ottenuto tutto questo allora mi sono detto cioè non parliamo cioè ti sto antipatico ok mi odi non mi puoi vedere no se mi ma avrai una ragioneria cioè un minimo di dire ma saranno anche antipatici però se con 2 ottengo 100 e ho tutto questo cioè bisogna essere veramente un grande statista a non eppure noi da 3 ora siamo stati mandati via e 102 sono termini sono cifre reali per capirci eppure a un certo punto c'è stata una rottura e perché quando si arriva veramente come dici tu a questo che non hai altri argomenti se non dire quanto ti ritorna a te e anche lì non hai un tavolo di discussione su questo per me l'argomento è chiuso da quel punto di vista quindi il problema fondamentale nostro mio come associazione è tutto in realtà infatti molti dicono ah non fate più questo non fate più eh tempo di crisi soldi io lo dico sempre noi problemi economici in realtà non li abbiamo mai avuti il nostro problema sono i luoghi dove fare cose perché o abbiamo dei problemi tecnici che sono piccoli che non sono in grado di avere capienze per determinati tipi di eventi quindi proprio cose oppure le amministrazioni che come in questo caso non sono neanche in grado di guardarsi al portafogli e io ho deciso di prendere due anni di pausa in cui è nato il ghost tour proprio per dire ok o trovo un luogo con un'amministrazione perché con le comunità noi non abbiamo mai avuto problemi perché le comunità ci guadagnano e loro i conti se li fanno i commercianti i conti se cioè se si fanno uno che ha un hotel si fa il pienone per un mese ci pensa ovviamente abbiamo il supporto dalle comunità li abbiamo sempre le amministrazioni purtroppo fino ad oggi solo in sporadici casi hanno avuto la scintilla per esempio come in questo caso così ipotizzo il fatto che ho detto l'albergatore ha avuto il pienone come lui e altri negozianti ecco una rete quella è una rete affettiva da poter tirare dentro cioè di creare un gruppo informale a sostegno del festival con cui poter edigere un documento e presentarlo lì c'è la pressione il consenso che il festival ha ricevuto che tu puoi presentare anche sul tavolo della trattativa c'è il caso di Triora che è aberrante il caso di Triora che è aberrante dove Triora ci sono tre poteri c'è l'amministrazione c'è la proloco e ci sono i commercianti per un po' di tempo questo è stato un bel connubio perché l'amministrazione metteva i soldi la proloco dava da mangiare e i commercianti aprivano e quindi tenevano l'animazione e tutto adesso si è sfaldato tutto perché la proloco non può vedere l'amministrazione quindi gli ha tagliati i viveri veramente non gli fa più da mangiare l'amministrazione si è messa contro la proloco e contro i commercianti quindi non si parla neanche fra di loro e adesso per portarsi avanti le loro piccole cose perché hanno mandato via noi che gli portavamo 6.000 persone si fanno un piccolo evento loro ridicolo che si portano 300 persone sono contenti mi va bene sono contenti loro ma hanno dovuto creare un'associazione di commercianti che vive tra sordi cioè nessuno si parla con l'altro quindi questa dinamica è oggettivamente da noi anche prendere in considerazione come media perché non penso che in altre parti ci possa essere un discorso di questo tipo è già un problema loro prima che noi ci insediassimo quindi l'immagine quindi ad esempio noi facciamo anche dei set fotografici perché comunque promuovere l'immagine dello storyteller con determinate caratteristiche crea il personaggio quindi ad esempio loro sono vestiti di nero se vedete le ragazze hanno lo stesso vestito di una stilista e il ragazzo ha un vestito diverso hanno degli oggetti lei tiene in mano un libro che è il Grimorio uno degli oggetti in dotazione del Gostura il Grimorio che viene sempre portato normalmente dalla ragazza ha dentro tutti i testi del Gostura che comprende i testi che si sono imparati più delle piccole parti che vengono lette durante il percorso questo ha un duplice valore perché da un lato appunto hanno la lettura che quindi però si dimenticassero qualche cosa ovviamente i testi sono molto lunghi è nato anche un po' così poi vabbè lei ha anche un orologio da tasca un altro degli oggetti e poi la lanterna che è un po' il simbolo questo in generale dei Gostur a livello internazionale e poi vabbè l'artista che però interviene soltanto appunto dicevo la lanterna questa è un'altra delle cose di apertura seguite sempre la mia lanterna state lontani dei luoghi bui frasi così che però vengono recepite molto bene ad esempio da diversi blogger una blogger di Firenze è venuta ha voluto fare un report sull'evento e voleva anche delle frasi molto incisive di questo tipo e qua vi faccio vedere solo qualche foto per avere un'idea i gruppi normalmente noi mettiamo come numero massimo 50 persone ma per una questione proprio che diceva anche lui cioè gli spazi sono piccoli in un carrugio metterci troppa gente quelli dietro al fine non sentono niente quindi vengono pagano un biglietto per non sentire non è carino però nel bene e nel male questa stagione appena conclusa non siamo mai riusciti a farne 50 siamo sempre arrivati fra i 60 e i 70 e oltre perché la gente magari era in vacanza alcuni e quindi ci pregavano proprio ma dai non vi cambia niente tutti quanti dicevano uno in più non vi cambia niente uno in più non vi cambia niente ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo gestiti poi per il gusturo invece speciale che abbiamo fatto ad Halloween abbiamo fatto dei gruppi quindi c'erano delle partenze alternate perché avevamo troppa gente era impossibile no voce non mi piace in questi casi l'amplificazione 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 è fatto troppo sì c'è chi ha la voce ovviamente gli attori professionisti li senti a distanza loro alcune volte però in linea di massima se la sono sempre cavata questa è la piazza come vedete le nostre scenografie sono veramente minimal nel senso che mettiamo queste padelle romane casualmente questa piazza proprio degli spazi sembra fatta apposta per mettere in diversi spot particolarità è che lo stemma araldico di Triora è un cerbero e da lì l'etimologia Tria ora tre bocche è una delle etimologie non necessariamente quella veritiera però è una di quelle che vengono prese in considerazione ecco qua si vede l'unico figurante che noi abbiamo che è il dottore della peste che comunque si inserisce bene perché nella tappa dedicata alla pestilenza del 300 e qui questa zona invece dove c'è il suo tavolo si parla dell'unguento armario dell'unguento delle streghe di cui vi dicevo questo qua è il dottore questo è uno degli attori professionisti sono un ragazzo e questa ragazza qua che si sono alternati durante la stagione ogni volta c'era una coppia poi magari un'altra coppia poi un'altra coppia poi tutti insieme nell'evento speciale questo ancora qui è una zona il cosiddetto enigma del boia una cosa anche carina che ho recuperato sempre da voci quindi non da testi qui siamo fuori dalle mura e c'è una piccola porticina con gli stipiti in Ardesia l'Ardesia era una pietra molto costosa all'epoca e fuori dalle mura non vivevano i nobili ma vivevano i reieti o comunque quelli che stavano al di fuori allora l'enigma è come mai qui c'è una porta comunque viveva qualcuno che si poteva permettere pur essendo fuori una pietra del genere la soluzione era il boia che era benestante ma era costretto a vivere fuori dalle mura perché lui prima dell'alba doveva prendere i malcapitati e portarli al carmo delle forche per impicarli e questo va bene per uno dei percorsi vedete si vedono tutti gli oggetti la lanterna il libro il gruppo dietro Renato vuoi farci vedere ancora no io direi di fare una piccola pausa visto che siamo insomma sono le 5 e 10 facciamo una breve pausa a meno che prima facciamo la pausa se volentieri devo comunque andare via la promessa che avevo fatto era proprio quella di ascoltare soprattutto non ascolterò fino alla fine però mi riprometto con Fabio di tenere presente la rete appunto che si può creare eventualmente ma poi anche attraverso Franco voglio dire che cosa rimane dell'esperienza per me mettere un ulteriore elemento un ulteriore elemento sulle grandi possibilità che ci sono di raccontare appunto cose che tradizionalmente vengono solo mostrate attraverso episodi 2000 euro per per una serata hanno un senso per una serata o per una giornata hanno un senso se se esistono poi delle documentazioni delle registrazioni eccetera se questo qui è importante resta il fatto comunque che ci sono anche situazioni che hanno forse anche costi inferiori che possono essere replicati in più elementi no io ne parlo in termini proprio molto 2000 euro noi comunque sette serate non una sì sì capisco perfettamente perché perché no no ma ma capisco ma voglio dire poi alla fine non è che devo essere proprio io a fare le pulci sul lavoro degli artisti assolutamente no anzi non dovrebbe essere per niente questa una considerazione di tipo economico il vero il vero discorso che si deve fare è questo qual è la mission di una di una struttura che sia pubblica che privata qual è la utilità che non necessariamente è quella economica qual è il budget che può che può sostenere in un bilancio più complessivo che può essere quello della grafica che può rappresentare per te il 20% per altri casi invece può essere ridotto al minimo perché si lavora soltanto su così autarchicamente in termini di di realizzazioni grafiche e altro mettere in conto che ci sono i teatri che possono forse sostenere budget di questo tipo probabilmente i musei che si occupano di arte contemporanea una mostra mediamente che può durare tre mesi non costa più di 10 12 mila 12 mila euro quindi forse ecco bisogna saper calibrare probabilmente i vari elementi in una logica anche di modernizzazione e poi anche come dicevo prima di dare spazio alle produzioni locali questo qui è uno degli elementi più importanti e quindi non va affatto il conto della serva così detto vanno fatti conti in temi di sviluppo locale e quindi è tutta un'altra questione io mi dispiace veramente sembra quasi che poi io come i sindaci gli assessori se ne scappano ad un certo punto avevo un impegno no io devo andare assolutamente via o devo prendere la macchina dal meccanico almeno è sincero quindi va bene però volevo dire un'ultima cosa perché ci possono anche essere delle maniere alternative per esempio noi al museo ferroviario di Lecce prendiamo zero dal comune di Lecce anzi facciamo pagare un biglietto che di 5 euro per esempio e lasciamo qualcosa al museo come biglietto di ingresso quindi in realtà è una maniera che ovviamente questo viene fatto grazie ad un investimento nostro iniziale che è quello che diceva Renato di cui non ci siamo assunti tutti gli oneri agli attori della nostra compagnia che sposano il progetto e che lo fanno volentieri ovviamente proprio per uno spirito di comunità quindi però bisogna bisogna avere un sostegno che deve essere in qualche maniera tangibile la mia testimonianza l'ho portata in termini attivi ma soprattutto di ascolto e di incontro successivo va bene? va bene grazie allora facciamo una pausa ringraziamo poi Elisa magari nella seconda parte io vorrei se hai un po' di tempo anche entrare nello specifico delle opportunità invece europee che vengono date in questo senso